Riaperto al culto la chiesa della Madonna dell'Elcina d'Abbateggio, a cui è legata la leggenda dell'apparizione miracolosa, riportando questo monumento importante al culto di tutti i fedeli. Pur essendo la chiesa della Madonna dell'Elcina, riconosciuta di proprietà della parrocchia di San Lorenzo Martire, grazie ad uno specifico decreto vescovile del 9 novembre 2000, il comune di Abbateggio ha intrapreso un'incessante e pressante richiesta di fondi per riportare alla fruibilità di tutta la comunità parrocchiale tale importante luogo di culto. Infatti, nel 2017, grazie alla primura dell'onorevole Grazia Francescato, ora cittadina onoraria, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero delle Economie e delle Finanze di 200.000 euro destinato al recupero e restauro del santuario della Madonna dell'Elcina. Altri finanziamenti sono arrivati dalla Fondazione Pescara Abruzzo, dalla Regione, ma fondamentalmente è stato il contributo dei cittadini, del comune pedemontano della Val Pescara e degli emigranti, nonché delle associazioni che non hanno fatto mancare il proprio sostegno economico. Ognuno ha messo il suo granello di sabbia, anch'io ho messo il mio, ho trovato una parte dei fondi quando ero parlamentare e non potevo mancare oggi perché è una giornata molto importante per tutta la comunità di Abbateggio. Credo che non ci sia in Italia un posto che possa gareggiare con la bellezza della Maiella, ma anche perché Abbateggio è un piccolo paese che sa fare grandi cose, è una comunità autentica, piena di solidarietà, dove le persone lavorano tutte insieme. Penso che possa essere un bellissimo esempio non solo per l'Abruzzo, ma per tutta l'Italia. Un evento come questo non solo risveglia un'appartenenza religiosa, un cammino di fede, ma aiuta e stimola la coscienza della propria identità, della dignità di un popolo per quanto piccolo, di una storia, di una comunità. Credo che questi sono valori che devono essere sempre nuovamente riscoperti e rilanciati e anche bisogna dare ai giovani la passione per questo messaggio, per queste radici che sono il fondamento della profezia, del futuro.